l'approdo in città dell'imprenditore Marco Mezzaroma per rilanciare il calcio cittadino. Vediamo. Nel tempo di occuparsi del calcio come amministratore pubblico non è proprio il massimo, ma comunque insomma al di là della battuta, io Salerno è una grande città, è importante anche il calcio perché il calcio è promozione, avere una squadra che porta il nome della provincia in una serie importante è una cosa che serve molto anche alla promozione pubblicitaria, quindi mi auguro che Salerno ritorni come squadra a poter frequentare categorie adeguate all'importanza della città. Sinonimo di garanzia la nuova proprietà? Ma io non le conosco come tutti quanti giornalisticamente, il costruttore Mezzaroma non è un costruttore salernitano, so che sul piano nazionale a Roma è un costruttore stimato, ma non ho diciamo una conoscenza operativa particolare, se non per il fatto che ho visto un paio di volte, so che è il marito del ministro Carfagna, certamente avrà un occhio di riguardo per Salerno visto che sua moglie è salernitana ed è anche una politica salernitana. Finisce qui questa edizione del...